Di farci vedere il sorriso con una storia bellissima, una bellissima storia d'amore di due persone che si amano da molti, molti anni e hanno rischiato a causa del virus di vedere sfumare questo sogno d'amore e invece si sono sposati sabato. Lucia Loffredo con Anna Maria e Roberto, vengo da voi, raccontateci, fateci un po' sognare in questi tempi così oscuri. Eh sì, Alberto, questa è proprio una storia meravigliosa, un amore che si corona. Intanto questi sono i confetti del matrimonio che io ti porterò naturalmente. Ecco perché non vedo l'ora, poi portano fortuna, eh? Quindi li voglio assolutamente. Portano fortuna, sì. Eccoli qua, Roberto e Anna, che si danno un bacio in diretta perché il matrimonio sono potute andare poche persone. Facciamo vedere, Alberto, le fedi come luccicano. Guarda che meraviglia, sono nuovissime. Lucilla, ma spieghiamo che cosa è successo. Lucilla, sì, Lucia. Diamo i numeri con i nomi delle mie inviate amatissime. Lucilla, che cosa è successo? Perché temevano di non riuscire a sposarsi? Eh, perché ho preso il virus. Eh, beh sì, no, è che tu la storia la sai, noi la dobbiamo raccontare anche agli altri. Quando è stato marzo, purtroppo, Roberto si è ammalato anche in una maniera molto pesante perché tu sei stato intubato, sei stato in rianimazione. Insomma, i medici, Anna, ti avevano detto che la situazione era veramente... Era grave, sì. E lui non sapevano se fosse riuscito a superare questa malattia. Tu avevi paura, insomma, che lui da te non sarebbe tornato. No, è vero. Avevo paura perché erano momenti difficili per tutti e soprattutto per lui perché era grave e non si sapeva se avesse superato questa malattia. Ecco, no, strana si sta emozionando, Alberto, a ripercorrere questi momenti. È certo, perché secondo me, posso dire come la penso, la forza di questo amore di Anna Maria che lo aspettava, Roberto l'ha sentita e quindi ce l'ha fatta. Noi raccontiamo spesso qui, purtroppo, storie di persone che in qualche maniera rimangono stretti nelle morse del virus, le terapie intensive, quello che purtroppo accade e invece questa è una storia che ci fa sperare, che ci fa venire davvero la gioia nel cuore. Sì, poi, Alberto, la cosa bella che io devo dire come donna è che la proposta di matrimonio è arrivata proprio da Anna, giusto? Sì, è vero. Però ho accettato subito. Dopo 27 anni, diciamo, ha accettato subito. Ma perché hanno aspettato così tanto, Lucia? Te lo faccio dire da Roberto, perché avete aspettato? Ma perché, perché ci andava così e... Eh, allora so che tu sei timido, di la verità, eh? Perché volevi fare ancora quello scapolone d'oro. No, dopo 27 anni che scapolone vuoi che facevo? E niente. Però c'era anche una parte pratica. Allora, moltissimi auguri, moltissimi auguri davvero a questa coppia straordinaria, Anna Maria e Roberto. Auguri, augurissimi. Cosa facciamo?